Quando nel 2003 a Salonico ho scoperto l'archivio della scuola italiana Umberto I, scomparso durante l'occupazione tedesca, non potevo immaginare che questo evento avrebbe cambiato la mia vita. A large number of documents containing students' thoughts, their hopes, dreams, and their deepest fears. The fate of nine Jewish students whose only crime was their religion. One of the darkest moments in human history. A docudrama by Alessandra Maioletti